Quattro bravo, ingresso sicuro, mettere posizione. Ssht, sentito quel rumore? Qui capo, fatemi rapporto. Lo vedo io libero. Sam, qui non c'è niente. Cosa diavolo? Figlio di puttana! Giro a sinistra! No! Allora, se ricordo bene il Lost Mission si dovrebbe collegare più. E si collega più o meno tra la fine di Doom e l'inizio di Rescue of Evil. Allora! Allora! A presto! No 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 ma fan gula non 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.